Quali sono le pietre miliari della mia esperienza in questa scuola? Sono due, un sito web e le Google Apps for Education, cioè l'uso delle applicazioni di Google e l'uso di un sito web, di un normalissimo sito web. Attraverso questi due strumenti riusciamo a instaurare sia un meccanismo pubblicativo efficace, sia a indurre degli insegnanti una abitudine all'uso delle tecnologie, che è quello che secondo me rende l'apprendimento, come diceva Vincogiano, significativo al di là del corso, perché il corso spesso ha fatto il diattore.